Musica Parliamo di basket, in promozione femminile riprendono a correre le ragazze del Panvit San Giorgio che dopo il capo di Pizzighettone espugnano il campo del Lograto 62 a 43 Finalmente Panvit, le ragazze di Cocce Regattieri tornano al successo dopo lo stop dello scorso turno a Pizzighettone vincendo sul parquet del team 75 Lograto per 62 a 43 Dopo un avvio contratto culminato con lo svantaggio del primo quarto le San Giorgine sono uscite allo scoperto rifilando un sonoro parziale di 20 a 7 alle ragazze di casa nel secondo quarto prima di dilagare nelle ultime fasi del match Da segnalare l'ottima prova della Russo e della Molinari autori rispettivamente di 13 ed 11 punti e di Enrica Frasca in prestito dal basket Brixia Con questo successo le Biancorosse ritornano al comando della graduatoria approfittando della contemporanea sconfitta di Pizzighettone a Castegnato giungendo a quota 16 in classifica Il prossimo incontro è in programma domani quando al palazzetto di San Giorgio alle ore 21 il Pambi scenderà in campo contro le Bresciane del Luisp Manerbio terza in classifica La gara è di quelle toste ma le San Giorgine con supporto del loro pubblico non possono fallire